o possiamo un attimo la camera amici sono subito da voi ok ci siamo stavo già preparando l'effetto il prossimo effetto che poi vi spiegherò un nuovo gioco molto molto bello vedrete allora come funziona l'effetto e l'errore fatale si prende un mazzo di carta e lo mascolate ok tranquillamente aprite in questa maniera ma nell'aprire spostate la prima carta voi l'avete già memorizzata la prima carta e la spostate così ok si vede in proposito modo quando giriamo diciamo dimmi sto con voi tu il gioco di quali va bene in realtà prendiamo quella sotto che è il 4 di fiori come guardate il gioco di quali va bene in realtà ho girato il 4 di fiori il gioco di quali è esattamente la seconda è invisibile guardate 4 di fiori andiamo avanti in questo momento voi avete spostato ricordate la carta così ma quando prendiamo giriamo non giriamo il 2 di picche ma giriamo il 4 di fiori si prende la carta 2 di picche va bene mettiamo qua in realtà non è il 2 di picche ma il 4 di fiori si prende tutto e si mette sopra in modo che il 2 di picche sia qua in prima posizione si miscola si apre le carte ancora nella mia maniera così e si sposta la prima carta trattenendola così con le dita ora fermami in realtà qui c'è il 4 di fiori io dirò cosa semplicemente ora fermami al 4 di fiori in realtà dobbiamo prendere 2 di picche quindi dimmi stop quando vuoi tu hai il 4 di fiori ma ovviamente lui ti dirà stop ma era sbagliata perché c'è l'errore dimmi stop dove vuoi tu non dite al 4 di fiori dimmi se lo stop va bene qui ha solo di picche girate in realtà avete giato il 2 di picche quindi ancora una volta facciamo vedere apriamo spostiamo la carta va bene dimmi stop qui 8 di quadri prendiamo due carte insieme lo sto facendo lento e decidiamo se ne prende diciamo ah ma mi ha fermato in realtà mi pensa che sia l'8 di quadri invece lo di picche e dite ah mi ha fermato l'8 di quadri però guarda basta proprio tac e l'errore diventa un miracolo qui passa 4 di fiori ciao ragazzi aspettatevi il prossimo gioco una figata ciao ciao